Come faccio ad applicare l'intelligenza artificiale alla mia azienda? Questa è una domanda che mi arriva spessissimo e la risposta ve la do subito. Non si applica l'intelligenza artificiale alle aziende, perlomeno non quella di cui parla la maggior parte delle persone, ovvero i large language models, perché è un po' come dire come faccio ad applicare un motore di ricerca alla mia azienda dal momento che uno atterra su questo pianeta e scopre che esistono i motori di ricerca, poi cosa rispondereste? E non si applicano i motori di ricerca, si usano a seconda di cosa ti è comodo. La segretaria può fare un search, il CEO può andare a vedere chi sono le persone prima di incontrarle e avanti così con tutte le cose che avete in mente, ricerca di immagine, cioè ci sono veramente mille cose che si possono fare. Ed è la stessa cosa del large language model, ma non è che la integri, a meno che ovviamente tu non abbia un'azienda, faccio un esempio, ospedaliera o di ricerca, dove utilizzi algoritmi che sono in grado di riconoscere le immagini, di fare, certo, oppure che ne so io, ti occupi di traffico, devi riconoscere il movimento dei automobili, ma non è sicuramente quello a cui si riferiscono quando mi chiedono come faccio ad applicare l'intelligenza artificiale alla mia azienda. Perché nasce questa domanda? Questo è il vero punto. Nasce questa domanda perché siccome la moda dei large language model ultimamente ovviamente è finita ovunque, cioè veramente ne sento parlare dal salumiere o dal parrucchiere, dove non vado, però ne sento parlare. E quindi di conseguenza i fufa guru hanno creato un bisogno, cioè dicono io ti insegno a come si fa ad applicare l'intelligenza artificiale alla tua azienda. Il massimo che riescono a fare ti spiegano come devi scrivere i prompt, cosa peraltro che il tempo che hai finito di impararli sono già cambiati, nei confronti dei vari modelli, dei vari strumenti. Per cui non applicate alcuna intelligenza artificiale alla vostra azienda, usatela, cercate di capire a seconda delle vostre singole funzionalità, singole funzioni interne, singole funzionalità degli strumenti e quello che dovete fare, come potete velocizzare i processi, renderli più efficienti, utilizzando i large language models, perché alla fine è quello. Quindi producete dei contenuti scritti, perfetto, vi fate aiutare, avete bisogno di generare immagini, vi fate aiutare, avete bisogno di rispondere email, ci sono tools che ve lo fanno velocemente e avanti così. Questo è il modo in cui si utilizza. È un po' come dire, non lo so, come faccio a fare, c'è la moda dell'imprenditoria, sono arrivato sul pianeta Terra per la prima volta oggi, come faccio a diventare un imprenditore? Come se esistesse un modello solo. Ci sono delle cose che devi sapere, come si crea un'azienda, come si tiene un conto economico, ma per il resto devi tu esplorare il mercato e capire dove c'è bisogno, come lo posso coprire e ognuno, come ben sapete nel mondo imprenditoriale, lo fa a modo proprio, lo fa a modo scuro. Ecco, bisogna fare la stessa cosa anche con questi strumenti, che sono da aggiungere a quelli che già si hanno. Per cui non possiamo pensare di, come dire, non aver usato in modo proficuo, proficuo, in inglesi, i vari strumenti fino ad oggi e poi improvvisamente pensare che l'intelligenza artificiale arrivi a risolvere tutti i problemi. L'intelligenza artificiale, soprattutto nei large and large model, può essere aggiunta ha già l'efficienza che si ha utilizzando gli strumenti tradizionali, cosa che spesso non c'è. Vedo aziende che fanno foto a documenti e li mandano via pdf come fotografia, però vogliono implementare l'intelligenza artificiale. No, non funziona così, mancano i pezzi.